Ultimi giorni di campagna elettorale ad Olevano sul Tusciano per le amministrative del 14 e 15 maggio. Ai nostri microfoni il candidato sindaco della lista numero 2 per Olevano è Eugenio Gagliardino. Si corre, si corre cercando di incontrare quanto più persone possibile per spiegare a tutti la nostra proposta, per rimarcare le differenze e per chiedere a tutti sostegno che finalmente questa volta il Paese possa essere unito e possa unirsi intorno a cose giuste da fare. Il programma è bello, ambizioso, però al tempo stesso è molto concreto e parte dai bisogni della gente. Abbiamo spaziato in vari settori, dai servizi alla persona, all'identità del popolo levanese, a quelle che sono le caratteristiche pepuliani del nostro territorio, partendo da una riqualificazione del fiume Tusciano, dal quale poi si diramerebbero tutta una serie di sentieri per consentire i vari percorsi passeggiati a piedi, passeggiati con le biciclette, insomma, nonché la valorizzazione di tutti i monumenti, in qualsiasi modo, anche attraverso l'energia. La parola giovane è inflazionata, insomma, io sono, come dire, molto attento alle parole che si devono usare. Per me il Paese è uno solo e dall'analisi demografica del Paese abbiamo un'età media di 42 anni. Quindi, come dire, abusare del termine giovani, a mio avviso, insomma, è una speculazione politica che io non voglio fare. Non mi piace fare chiacchiere, mi piace molto realizzare i fatti. Ragion per cui nel mio Paese servono tutte le risorse, dai giovani ai meno giovani. E con i ragazzi con i quali abbiamo parlato sono venute fuori una serie di idee, come ad esempio quella dell'esaltazione degli eventi folcloristici e culturali del territorio, per ridarci finalmente dignità, parlando di bagliva, parlando del brigandaggio, parlando di tutte le feste patronali, delle feste parrocchiali, parlando della sagra. Ecco, tutto ciò che può ricondurre finalmente ad una qualità, una caratteristica del Paese che poi possa valorizzarsi all'esterno. Dal punto di vista, per esempio, del made in, vorremmo individuare e istituire la déco, la denominazione comunale d'origine, Olevano, Paese dell'Olio, abbiamo la rotondella che potrebbe essere certificata dal punto di vista di qualità dal comune con l'attestazione di Olevano, un po' come il pane di Altamura, un po' come la pasticceria di Alessandria. E questa cosa l'ha detto un ragazzo di Olevano, giovanissimo, che studia a Parma. Se le dico identità, cosa risponde? Orgoglio, orgoglio di essere olevano, collaborazione a rete, è già stata istituita in questi termini. Il contratto di fiume del Tusciano parte dalla collaborazione dei più comuni con i quali già ora, anche non essendo sindaco, ho dei rapporti di amicizia personali che mi legano. Anzi, faccio i ringraziamenti pubblici a quattro sindaci del territorio che domenica scorsa sono venuti con me a consumare un aperitivo in maniera amichevole. Erano presenti i sindaci del Comune di Battipaia, Bellizzi, Montecolvino Pugliano ed Eboli. Li ringrazio pubblicamente per l'onore che mi hanno dato. Ma questo significa non solo conoscenza diretta, ma soprattutto il presupposto per una collaborazione fattiva per presentare insieme progetti seri in modo da valorizzare l'intera valle del Sele da una parte e l'intera comunità dei Picentini dall'altra. Grazie.